Ciao e benvenuti su Glamissima, il primo canale italiano di recensione di calze e collant e altri prodotti femminili. Io sono Diana e oggi vi parlerò di questo paio di collant in questa deliziosa confezione quadrata, davvero molto carina, confezione di cartone. Allora, il brand si chiama D-I-M, il collant deve essere un opaco, 40 denari, matt, bellissimo, questo è un collant past part 2. Allora, intanto questo prodotto l'ho ricevuto da Amazon, se vi interessa aprite giù il link nell'info box, troverete il link per acquistarlo. Oh, bene, la taglia è la seconda, andiamo ad aprirlo. Bello, nero coprente, questo è davvero un pass part 2, lo utilizzerò tantissimo, wow, soft touch, proprio, sembra, è proprio setoso, ecco. Poi è il coprente nero, davvero molto bello. Non vedo l'ora di indossarlo e di farvelo appunto vedere, e di farvi vedere, ecco, con quali abbinamento ho scelto, ecco, per questo collant. Quindi state lì e mi vedrete, mi vedrete con il collant indossato. E voilà, questo è l'outfit che ho scelto per questi collant nero coprenti. Ho scelto questo tubino a fiori, davvero molto carino, molto primaverile, con questi appunto fiorellini, mi piacciono molto anche i dettagli delle spalle, belle e voluminose. Faccio vedere un po' più da vicino, guardate quanto è carino, eccolo qua. Con questo outfit ti consiglio di uscire una sera, per un aperitivo, una cena galante, ecco, quindi lo consiglio per queste occasioni, quelle che userei io, ecco, che lo indosserei per queste occasioni. Questo collant è davvero molto confortevole, proprio anche mentre cammino, non dà alcun fastidio e secondo me ha anche un effetto contenitivo, in quanto mi sento proprio la gamba, mi sento la gamba bella compressa, quindi è un valido aiuto per noi donne che, insomma, vogliamo sempre, ecco, assottigliare la nostra figura, quindi in questo caso ci farà risultare le gambe più affusolate, più seducenti, ecco, e anche più slanciate. Devo ammettere che questi collant sono davvero molto confortevoli, anche la vestibilità in base alla taglia è davvero ottima. Questa è una seconda e devo dire che mi veste perfettamente. mi piace molto, appunto, che siano calze coprenti e sicuramente saprete anche voi che sono super, super, super comode, perché sono un passepartout, si possono davvero indossare con qualsiasi outfit, dal più elegante a quello più, diciamo, sportivo, ecco, perché si possono abbinare anche ad altri outfit. Mi piace molto come le ho abbinate in questo caso, ovviamente il tacco è immancabile, mi piace molto anche la sensazione al tatto che hanno questi collant, davvero un effetto soft touch, sono davvero molto, ma molto confortevoli, quindi nel caso decidiate di acquistarli, vi consiglio di seguire proprio la vostra taglia, quanto corrisponde alla perfezione. Ed eccoci con il secondo outfit, in questo caso ho indossato un abitino sporty chic, che sembra tipo una fake outfit, ecco, davvero molto, molto carino in questo colore verde militare, secondo me si sposa davvero molto bene con il collant nero coprente, in quanto conferisce al look un tono, diciamo, sportivo, ma nello stesso tempo elegante. Io, con un outfit del genere, ci esco tranquillamente anche a fare shopping al pomeriggio, un incontro con le amiche e comunque tutte quelle occasioni informali. In questo caso ho indossato i tacchi, però non la vieta di indossare un paio di sneakers, un paio di stivale basso, un texano, ecco, quindi dipende dall'occasione che vogliamo avere. Questo abito è sempre di Femme Lux, eccomi qua, ciao, davvero molto bello perché ha la spalla scoperta, un mini abitino, un mini dress, ecco qua con i miei tacchi, voglio ammettere che sono davvero molto, molto confortevoli questi collant, anche proprio mentre cammino donano proprio una bella sensazione anche alle gambe. Proprio rendono la gamba molto bella, pusolata. Ecco un bel defile, così vedete bene. Devo ammettere che questi collant sono fatti davvero molto bene, anche nelle cuciture del piede, sono realizzati in modo che non danno alcun fastidio alla scarpa, quando si indossano con qualsiasi calzatura. Sono davvero molto, ma molto soddisfatta per questi collant e come vi ho detto prima sono anche molto, ma molto belli al tatto, nel senso che sono proprio soft touch, hanno proprio un effetto velluto molto, ma molto comodo e molto, molto piacevole. Devo ammettere che questi collant hanno davvero tanti, tanti pregi. L'unico magari, se posso proprio anche in questo caso, ecco, trovarci un piccolo difettino, è che l'elastico in vita tendo un po' a segnare. Quindi se si utilizza una gona, un vestito un po' addirente, magari in elastico si può notare, perché è un po' spesso. Ecco, l'unica cosa è questa. Però, per il resto, è davvero molto, ma molto, direi approvato da me. In definitiva questi collant hanno soddisfatto le mie aspettative. Vi ricordo che questi collant li potete acquistare su Amazon attraverso il link che trovate nell'info box. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale di Glamissima, così da poter vedere i prossimi video e rimanere appunto sintonizzati con noi. Io vi saluto, vi mando un bacio da Diana e alla prossima e continuate a seguirci. Ciao!